buongiorno ragazzi benvenuti ancora sul mio canale oggi primo gennaio 2020 vorrei partire subito l'anno con una buona notizia da oggi e ripeto da oggi quindi dal primo gennaio 2020 parte la liberalizzazione della micromobilità elettrica ciò vuol dire che da oggi tutti i monopattini ma anche gli hoverboard i segue e i monowells saranno equiparati alle biciclette e pertanto dovranno seguire dei limiti e normative stabiliti dal codice della strada cosa vuol dire tutto questo vuol dire che questi mezzi saranno equiparati totalmente alle biciclette e quindi potranno liberamente circolare sulla strada certo ci sono delle limitazioni ma adesso le andiamo a vedere quindi abbiamo capito bene noi che abbiamo monopattini possiamo andare tranquillamente in strada andiamo un po indietro in questo caso e torniamo al decreto toninelli sulla micromobilità il 27 luglio scorso demandava i singoli regolamenti comunali che ovviamente non ci permettevano di girare liberamente quindi eravamo sottoposti a varie micro leggi dei vari comuni se venivamo fermati come capitato potevamo rischiare fino a 6.000 euro di multa quindi tutto questo va a cancellare e a superare la vecchia normativa e ci liberalizza totalmente secondo tale normativa poi sotto vi metto il link di tutto questo articolo i nostri monopattini sono equiparati alle biciclette a pedalata assistita io nel frattempo leggo un po tutti gli appunti che mi sono preso per capire meglio la normativa a condizione che il motore smetta di funzionare quando si raggiungono i 25 chilometri orari e abba una potenza non superiore a 0 25 kilowatt se questi limiti vengono superati la bici viene considerata come ciclomotore e come tale andrebbe targata e assicurata per i monopattini quindi resta il limite di 500 watt la potenza massima prevista dal decreto del 4 giugno storico per la velocità limite è fissato a 20 chilometri orari quindi 500 watt 20 chilometri orari inoltre per i minori che si spostavano in monopattino con il decreto torninelli era l'obbligo di avere la patente am cioè quella del motorino ora con la manovra 2020 questa normativa parebbe decadere quindi non bisogna più fare la patente resta il dubbio della potenza assicurativa ma ovviamente non sul mezzo ma sulla persona stessa ma questo ve lo consiglio personalmente come sanno tutti coloro che si mettono in strada alla guida di un mezzo un'assicurazione è sempre un'ottima cautela in effetti è vero perché comunque io non sono assicurato verso terzi quando vado in giro in bicicletta ma se la mia situazione su persona comunque succede qualcosa sono sempre comunque tutelato comunque ancora ancora alcune domande rimangono non coperte dalla normativa il monopattino di fascia alta con facilità diventa uno scooter elettrico non omologato questo per quanto riguarda questo articolo in realtà è anche vero insomma basta una seconda batteria e lui prende potenza anche qui sul chilometraggio e sul dettaglio della legge non è ancora chiaro perché trovo alcuni articoli che parlano di 25 km orari altri di 30 nel link qui sotto metterò proprio tutto il decreto intero così qualcuno sotto vuole commentare e darci più chiarezza su quella normativa perché sinceramente come scrivono non si capisce nulla a me piace fare queste cose per chiarire e parlare una lingua comune lì sopra ci sono tutte cose molto molto tecniche andiamo ancora un po più nel dettaglio i velociti devono essere muniti di pneumatici nonché la frenatura di un dispositivo indipendente su ciascun asse quindi un freno anteriore un freno posteriore per monoruota un freno per le segnalazioni acustiche quindi di un campanello per le segnalazioni visive di luci bianche o gialle anteriori e posteriori luci rosse e catarin frangenti che dovranno essere applicati anche ai lati degli eventuali pedali i velocibiti possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino con idonee attrezzature e qui il termine idonee va bene le sanzioni in caso di mancato rispetto di queste caratteristiche tecniche non sono elevatissime a quanto pare si aggirano tra i 25 e i 100 euro mentre per il velocipite dono omologato si pagano dai 41 euro ai 169 che mi sembrano qualcosa di un po più degno rispetto a 6.000 euro che si era parlato tempo fa su alcune notizie della città di torino da oggi ma veramente da oggi possiamo prendersi a parte il gelo e freddo che c'è fuori il nostro monopattino e girare liberamente come se fosse una bicicletta in questo io voglio darvi dei consigli personali in realtà il monopattino in strada non è così proprio sicuro nel senso che è molto leggero è molto semplice da andare in terra perché comunque basta una buca delle ruote non sono grosse come una bicicletta che insomma si è subito un po stabili quindi se la legge anche non dice di mettere il casco voi mettete sempre il caschetto da bicicletta con pochi euro al decathlon prendete una piccola protezione per voi stessi e anche dei catering frangenti colorati adesso ci sono anche quelli a strisce non c'è bisogno del giubbotto anche così anche per l'estate sulla maglietta potete utilizzare questo perché in realtà non è così facile individuarci da dietro ad avanti ci spostiamo velocemente poi siamo proprio anche abbastanza veloci nelle curve negli spostamenti quindi vi consiglio di proteggere al meglio la vostra visibilità e la vostra sicurezza su questi mezzi abbiamo raggiunto un ottimo traguardo ci sono mille ormai postazioni di monopattini da utilizzare in giro per la città sul noleggio chi l'ha comprato insomma siamo finalmente liberi ed era un po quello che volevamo ok facciamo in modo che questo avvenga e non ci limitano ancora quindi proteggiamoci utilizziamo con la testa che è la cosa più più importante proprio perché è un po più piccolo un po più leggero di una bicicletta un po meno stabile facciamo in modo che questa legge si mantenga e possiamo utilizzarlo quindi usate il monopattino e tutto quello che è il mondo elettrico più leggero in maniera cosciente ora vi saluto ragazzi vi auguro un buon 2020 e grazie grazie a tutti i 130 che si sono iscritti quindi iscrivetevi continuate a seguirmi io cercherò di fare più video possibile più chiari possibili fatemi domande scrivete se volete vedere qualcosa se volete approfondire qualche altro qualche altro argomento e grazie grazie davvero ciao ragazzi